Io sono dell'idea che... la mia opinione è che le idee non si processano e quindi non si può processare un'idea, un ideale, tantomeno non si può processare un pensiero, un'opinione. Quello che è successo a Henry è proprio questo, cioè non è una... sì è una presa di parte, ma è una presa di parte legittima, non c'è niente di criminale nel descrivere delle cesoie per quello che sono state inventate, cioè quello che succede in Val di Susa e diciamo forse insieme a Taranto, alla terra dei fuochi, è l'espressione di quello che siamo diventati come nazione, come stato. Abbiamo paura delle idee, abbiamo paura delle opinioni e piuttosto che confrontarci con le idee contrarie alle nostre, preferiamo ricorrere a mezzi un po' più strategici e più di manipolazione di massa. Quello che è successo a Henry è proprio questo, quindi deve essere un campanello d'allarme e quindi è importante essere qui proprio per manifestare la propria vicinanza a un uomo, a un uomo di cultura che ha semplicemente espresso un'opinione. In Italia è breve la strada per poi diventare un martire. Martire della giustizia in questo caso significa, così come in altri casi, per esempio mi riferisco al reato di devastazione che è stato creato subito dopo i fatti dei Notav, subito dopo le grandi manifestazioni studentesche romane. Insomma, lo scandalo ha lasciato il posto a quella che è una forza che ti viene da dentro, una forza che poi ti fa sentire parte di un gruppo che si muove all'unisono per cercare di mettere l'accento su quelli che sono i problemi nazionali, su quelli che sono i problemi legati al territorio. Noi difendiamo il nostro territorio, non ci si può accusare di essere terroristi o ci si può accusare di devastare lo Stato perché noi lottiamo proprio contro chi cerca di devastare il nostro territorio. Così in Val di Susa, così a Taranto, così in Campania la Terra di Fuochi, ma a Gela, in Sicilia. Insomma, sono troppi i luoghi, le regioni e le località che sono ormai stuprate dallo sblocca Italia, dal famigerato sblocca Italia. Io sono contro la violenza, ovviamente contro la violenza fisica perpetrata alle persone. Quello che è successo in Val di Susa è una legittima autodifesa nei confronti delle macchine. Non c'è scappato il ferito, non c'è scappato il morto, non c'è scappato niente. Quindi è per questo che crea lo scandalo la sentenza a Henry. Un'opinione cerca di muovere delle idee, di muovere le coscienze. Da parte di una certa magistratura, ma del governo in generale, c'è il tentativo di delegittimare quella che può essere un'opinione legittima, un'opinione libera. E quindi il problema non sta nel partorire certe idee come quelle che ha partorito Henry, ma il crimine, il delitto sta in un governo che delegittima un'opinione del tutto indipendente. La personalità di Henry De Luca, il suo modo di pensare non verrà minimamente modificato, quindi quello che si ottiene o che si può ottenere da una sentenza del genere è forse l'effetto opposto a quello che desidererebbero. Cioè la forza di un'idea acquisterà più forza e domani oltre a Henry saremo di più. Quindi dovranno processare tutti. Io sostengo le opinioni e le idee espresse da Henry, quindi sfido un magistrato a accusare anche me. Non è questo che ferma le idee che abbiamo di bene comune, di difesa del bene comune, di difesa del nostro territorio. Se serve andare a processo per una cosa del genere, che così sia.